Quando si aprono le opere è sempre una sorpresa e quindi quando li vedi a tu per tu il confronto diventa più stimolante anche sicuramente. Certamente di fronte a certi quadri ci può essere emozione. La scelta delle opere è stata una scelta molto calibrata, una scelta che ha coinvolto non solo arte italiana ma anche arte internazionale. Meno quattro giorni all'inaugurazione della grande mostra 2015 di Como. Come viva la città Art and the City 1913-2014 aprirà i battenti venerdì e in queste ore a Villa Olmo è tempo di allestire le sale. Le casse con le opere continueranno ad arrivare fino a domani quando verranno svelati per esempio i quadri del Museo Marta di Trento e Rovereto. Scoperto oggi invece il quadro di Iori la cui immagine è stata scelta per la comunicazione dell'esposizione ed è già stata allestita l'installazione con i vasi di Ugo e la Pietra che rappresentano le diverse città. Ultimi giorni di lavoro a Villa Olmo insomma prima dell'inaugurazione della terza grande mostra firmata dall'assessore alla cultura del comune di Como Luigi Cavadini e curata quest'anno da Giacinto di Pietrantonio. Venerdì 17 luglio per la giornata inaugurale l'esposizione aprirà al pubblico dalle 21 alle 24 con chiusura degli ingressi alle 23. Alle 21 e 30, 22 e 15 e 23 sarà possibile assistere a letture ed esecuzione di brani musicali dal vivo. Numerose le attività previste e già elencate sul sito mostrevillaolmo.com Ogni domenica alle 15 e 30 per esempio sarà possibile partecipare alla visita guidata a Smart e 25 posti disponibili fino a esaurimento. In programma poi percorsi specifici anche per bambini come Art and the City, Caccia al Dettaglio, iniziativa a cura di materia viva e rivolta a un pubblico dai 6 agli 8 anni. Prevista la possibilità di prenotare visite guidate per scuola resche mentre da settembre partiranno gli eventi collaterali dagli incontri alle presentazioni di libri. La mostra sarà visitabile fino al 29 novembre.